Ciao ragazzi, perdonate la mia apparizione un po' improvvisa, ma ho messo a punto un dispositivo che mi consente di teletrasportarmi da un buco ad un atto. Vi faccio vedere. Eccolo qua, è sufficiente per aver pulsato e dare un'istruzione e mi teletrasborderò in altro posto, insomma che è diverso da questo. Vedete? Teletrasporto adesso. Recevuto. Avete visto quanto è facile ragazzi, infatti mi sono teletrasportato in un luogo militare per dirvi che a partire dalla prossima settimana porterò sul mio canale dei contenuti unici di posti rigorosamente pugliesi ed alcuni di questi sono luoghi militari mai visti fino a ora sul web o in nessun video YouTube o qualunque altro canale, insomma, sul web. Partiremo proprio con il video di una vastissima installazione militare nella quale abbiamo scoperto un intricato sistema di tumi che ovviamente io e Olimpia D'Ambrosio siamo andati ad esplorare in fondo. Però questa volta non tutto è andato come sperato perché noi abbiamo sottovalutato i pericoli e i rischi che erano presenti in quei dubbi. Volete sapere esattamente quello che è capitato? Beh, dovete aspettare il video che uscirà la prossima settimana. Nel frattempo vi dirò che per l'appunto ci saranno altri posti unici ed esclusivi che saranno sempre zone militari, case abbandonate, fabbriche dismesse. Insomma, restate collegati perché veramente vedrete una sfinza di contenuti interessati e ci sarà da divertirsi, ve lo prometto. Ragazzi, sta arrivando qualcuno, è meglio che me la svegno. Teletrasbordo adesso. Ora non posso. Teletrasbordo adesso. Sto giocando la playstation. Teletrasbordami adesso. Non è. Cazzo ragazzi, sto cosa non funziona più ragazzi. Ragazzi, qui si mette bagno. Iscrivetevi al canale, ci vediamo. Un piatto. Grazie. Poi Audience. Si, quina saber. Come? È. Wow! Ttagli. Quando!